Oggi è una parola di amore, oggi è la voce dello sposo che arriva con questa parola, dietro a tutta questa parola c'è il cantico dei canti, mi hai rubato il cuore, mi rubassi il cuore, mi hai sedotto, con il tuo sguardo, dice un'altra traduzione in ebraico che fanno i rabbini su questa parte, dice mi hai rubato il cuore con la tua piccolezza, con l'assonanza che c'è tra sguardo, piccolezza eccetera. Gesù si è innamorato di te, ma se io guardo me, se guardo te, se tu guardi te stesso, se io guardo me stesso, devo fare questo esercizio, un foglio di carta, pensate no? Io mi sono innamorato di Francesca, facciamo un conto no? Di Paolo, di quello che sia no? Mi sono innamorato di mio marito, mia moglie, mi sono innamorato perché? Per il naso, per gli occhi, per le mani, mi sono innamorato del carattere, poi scrivere là che io mi sono innamorato della mia fidanzata perché così, 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 di mia moglie, di mio marito per... Allora, poi dici, proviamo a vedere quello che di me io posso scrivere perché Gesù si sia innamorato di me, al punto e lei era di là per me. A parte tutte le ipocrisie che mettiamo davanti, qua parla le farisei e scrivi, gente che stava sempre con la Bibbia in mano e anche si impegnava molto a rispettare i precetti. Ma noi sappiamo che Gesù guarda oltre, no? Mi piace una parolina molto interessante che è mormorazione. Sul foglio dovremmo scrivere mormorazione, se quello che c'è nel mio cuore è la mormorazione. Sapete, la mormorazione è una cosa molto interessante, sapete che cosa... c'è un salmo che dice, il salmo 120, dice, a me il disgraziato, dice, che potrò darti lingua ingannatrice, lingua che mi fa le papole, lingua di menzogna, dice, che posso darti... Poi dice, signore, liberami la lingua ingannatrice, che è come le frecce incendiate, acuminate. E poi dice, come carboni di ginepro. Se avete presente questo salmo, dice, la lingua che mormora è come i carboni di ginepro. I carboni che vanno dal ginepro sono molto particolari, perché? Perché si raffreddano fuori, ma dentro rimangono caldi. Allora i rabbini dicono, quella è la lingua doppia, lo vedete anche ipocrita, no? La mormorazione è così, sembra che fuori già tu stai calmo, stai tranquillo, invece dentro arde, costantemente. È una cosa che non si spegne mai, la mormorazione. Dice San Paolo nella Lettera ai Corinzi, guardatevi da la fornicazione, dall'idolatria, e mette la fornicazione, l'idolatria, la mette insieme alla mormorazione. E dice, perché chi ha mormorato, nel tempo, il popolo che ha mormorato, è caduto, dice, in preda dell'angelo sterminatore. L'angelo sterminatore sarà la morte, no? Se non è bello, l'angelo sterminatore era una cosa molto, molto speciale. Era l'angelo che personificava, era la figura che riassumeva tutte le insidie, tutti i pericoli che avevano i gregi e le famiglie. I lupi, i volpi, ma non solo, le piogge, i ladri, i briganti, tutto questo si chiamava angelo sterminatore perché distruggeva la famiglia, cioè distruggeva la casa e distruggeva il gregge. Entravano i lupi, mangiavano le pecore, rompevano le cinte, poi si scappavano, si perdevano, no? Quindi la rovina, questo angelo sterminatore. E nella Pasqua esce fuori l'angelo sterminatore. Questa parola che usa San Paolo perché lui si riferisce a quell'angelo sterminatore. Perché dice, chi mormora esce dalla protezione. Sapete cos'è la Pasqua? Pesa. Vuol dire tante cose, ma soprattutto vuol dire saltare. Perché la notte di Pasqua, prima ancora di passare il mare, la notte di Pasqua dice mettete il sangue dell'agnello sulle porte e l'angelo della morte, l'angelo sterminatore, vedrà il sangue e salterà la casa degli ebrei e colpirà i primogeniti d'Egitto. Chi mormora rende vano, rende inutile quel sangue, rende vana la croce di Cristo perché cade in mano al sterminatore. Speriamo che questo sangue dell'agnello è immagine del sangue di Cristo e il gregge, le cento pecore, è la comunità cristiana. Se vuoi anche la tua famiglia, la mia famiglia, le nostre famiglie, ma soprattutto la comunità cristiana. A chi mormora pensa il potere che c'ha la mormorazione. Chi mormora, chi è questo, come questi carboni di ginetro, che fuori è tutto carino, capito, fuori fa tante cose belle, ma dentro c'ha un cuore pieno di mormorazione, quell'uomo diventa la pecore perduta del Vangelo di oggi. Va fuori dal gregge, 99 e una, no? Cioè esce dalla protezione del gregge. Dice, lascia il 99 pecore, dice nel deserto. La parola che si usa per deserto, in greco è eremo. Mi viene? Stai in Umbria, è pieno di eremi. Eremo vuol dire la comunità, vuol dire dove stanno i monaci, il posto dove è difeso, la roccia, la cavità e la rupe. Allora, chi mormora esce dall'eremo. E per i padri del deserto, uno che esce dall'eremo è morto. C'è uno che è stato chiamato al deserto a fare parte delle gregge di Cristo, e esce dalla gregge di Cristo. E' dieci milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di miliardi di volte, peggio che uno che non è mai stato chiamato a vivere nel mozzo. Dice, i farisei gli stili mormoravano, costui riceve i peccatori e mangia con... Questo, questo rabbì, questo che si dice che è sapiente, questo maestro va con le prostitute, con i dati, con quelli che noi abbiamo risultato. La legge dice che questa gente va uccisa, va lapidata, va estirpata. Questo provoca la mormorazione. Cioè, Gesù ama quello che tu e io disprezziamo, questa è la mormorazione. Tu e io non sopportiamo che Dio ama chi stasse anche a me. Ma se io non lo sopporto, se io a questo prevedo non lo sopporto, perché Dio lo dirà male? Se questo è un disgraziato, se questo mi ha tradito, se questo è un porco, se questo è un assassino, perché Dio gli vuole bene? Perché Gesù non lo fulmina? Non mi fa giustizia di fronte a mio marito che è un disgraziato, o alla mia fidanzata, al mio figlio... Perché? Per questo rendiamo vano il sangue di Cristo. Per questo diventiamo una pecora sperduta lì, buttata lì, fuori, lontana, in mezzo ai rupi, ferita. Una pecora che si perde è una pecora che si ferisce, no? È una pecora ferita, non serve per il culto. Un agnello che è ferito, che si è ammalato, non serve per il sacrificio, quindi la tua vita è fallita, perché tu e Dio siamo nel gregge di Cristo, nel gregge di Cristo per essere offerti, per dare la lana sicuramente, ma per dare la nostra vita. Quello è il gregge di Cristo, che prepara agnelli come lui per essere offerti. E se tu sei... Allora, sei uno fallito. Allora, Gesù è innamorato di un fallito. Gesù è innamorato di te che mormora. Gesù è innamorato di questi farisei e scrivi, che sono esattamente identici ai pubblicani e ai peccatori. Solo che loro, come te e come io, orgogliosi e superbi, non lo credono. Tu non pensi di essere il peggiore di questa terra, vero? Ma quello tu pecchi. Io non penso di essere il peggiore di tutti. Qual è la gioia di Dio? Qual è la gioia delle angeli? Qual è la gioia? Qual è l'eucarestia? Il rendimento di grazia, la lode. Che un peccatore scopra di esserlo, che non può fare niente, e incontra Cristo, l'amato, che gli dice Mi hai sedotto il cuore. Sulle tue labbra c'è come il miele, un miele di favostillante. Ma come? Non c'è la mormorazione sulle mie labbra? Sì, ma è che viene Cristo e tu ti scopri, amato così come sei, dalla mormorazione, la mormorazione si cambia in lode, si cambia in miele. Questo annuncia la chiesa. La chiesa è fatta di gente perduta, ritrovata. Qua tutti noi siamo perduti, perduti, buttati via la vita, falliti, trovati da Cristo. Guardate il Vangelo e sembra che Cristo si butta a pesce in mezzo alle mormorazioni. Va dai farisei, va dagli iscrivi, va a pranzo da loro. Non è che lui se ne va e rifiuta, dice non voglio parlare con voi. No, dove c'è mormorazione lui si butta. La va a prendere, si mette dentro. Perché? Perché ama quelle persone, ama te. Non ti vuole lasciare fuori dal suo greggio. Si vuole riportare dentro le greggio. E cosa fa? Ti prende sulle spalle, vero? Vedi presente? La immagine vuol dire essere crocifissi con Cristo. Ecco come siamo. Lì, dove stai tu oggi, dove sto io, lontano dal fratello, dalla moglie, dal marito, ai figli, dai genitori, lontano, col cuore disperso, col cuore sporco, lì viene Cristo e cambia tutto. Fate noi una creazione nuova. Questo dice, vi ricordate quello che dice il Cantico dei Cantici? Venite amici e inebriatevi. Venite amici e ubriacatevi. Godete con me gli amici dello sposo. La donna, che è la Chiesa, che ha ritrovato la moneta preziosa che sei tu. Lo stesso pastore che trova la pecola perduta. Dice, venite. A tutti gli amici, venite, rallegratevi. Esattamente come il Cantico dei Cantici. Venite. Perché qual è la gioia vera? Qual è la gioia della Chiesa? Che tu e io, che mormoriamo, possiamo lodare Dio. E chi vive così, si innamorerà della sua fidanzata, non per gli occhiucci, per la boccuccia, no, si innamorerà di quello che fa schifo. Perché per quello ha dato la vita a Cristo. Perché quello schifo che ha la ragazza e che scopre la moglie è quello che Cristo usa per unirsi a te. Per unirsi a te. Facile, simpatica, caruccia, mi piacciono gli occhi. Ah, guardo. Ma quando diventa una strega, quando diventa un deficiente il mio marito, il mio fidanzato, lì appare Cristo. E quella è la vera gioia, eh. Ti vuoi sposare? Vuoi diventare prete? Non stai solo con le pecorelle che ti stanno bene ai 99, che ti dicono quanto sei bravo, facciamo l'eucaristia, preghiamo insieme. No, vai da quella che te odia. Vai da quella che mormola contro di te. Lì ci sarà gioia. Lì ci sarà gioia. Vai da quel figlio disgraziato che tu non sopporti. Quelli c'è la gioia. Ho avuto abbondato il peccato e ho avuto abbondato la grazia. Questa è la Chiesa. Per questo va fino agli altri confini della terra a cercare i perduti. Lui è morto in croce come l'ultimo. Fuori dal greggio. La croce era fuori dalla città, no? Perché doveva uscire fuori. Tu non sei degno di essere questo popolo. Tu hai bestegnato, hai detto che sei Dio, che è uno schifoso, nudo, sputato, perduto per tutti, perché l'ultimo perduto potesse tornare dentro. Ah, allora è tutto l'hovesciato. Non lascia i 99 per prendere l'una, ma si fa una per prendere tutti i 99, perché di giusti ce ne sta uno solo, Cristo. Tutti gli altri sono giustificati. Amen. Grazie infinite, Don Antonello, e buongiorno a tutti quanti voi della pagina, amici di Gesù. Oggi arriva questa parola molto, molto di consolazione per chi è in questo peccato grave, la mormorazione. Abbiamo sentito che mormorare è qualcosa di tremendo. È già morto. Chi mormora è già morto. Quindi abbiamo questa parola questa mattina che ci fa riflettere sulla nostra condizione, sul nostro essere, sul nostro agire di cristiani. di quanto sia immensa la resurrezione di Gesù Cristo, quanto ci ha amato, quanto ci ha voluto con sé, qualsiasi prezzo è stato pagato, qualsiasi condizione, qualsiasi sopportazione. Quindi sentiamo l'ordine al Signore questa mattina, questo 7 novembre 2019, con la preghiera, con l'ascolto della Buona Notizia, anche oggi. vi lascio qui, vi lascio con la meditazione di questo Vangelo. Buona giornata a tutti. Dai Emilio. Grazie. 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 Grazie.